ed ecco una bella francese citroen c4 cactus 1.5 turbodiesel da 102 cavalli è un euro 6 auto molto particolare compie gli anni in questo periodo infatti un febbraio 2020 allora intanto andiamo a vedere ecco qua la di blu questo per viaggiare veramente in serenità in ecologia vano carico posteriore bello ampio come si può vedere la panchina posteriore sdoppiabile abbattibile eccola qui perfetta veramente ovviamente un'auto cinque posti caratteristica particolare questi specchietti posteriori apertura a compasso ovviamente vetri elettrici all'anteriore regolazione dei sedili belli avvolgenti in tessuto questa bella fantasia ecco i chilometri solo 46.250 in questo istante come possiamo notare attenzione che l'accendo il volante multifunzione per quanto riguarda fonia e gestione della radio cruise control e limitatore tutto a portata di mano auto con grande display centrale touch per poter passare dalla navigazione al climatizzatore tutte le varie funzioni fonia e via dicendo tutto a portata di un click per le cose più rapide ovviamente usb come piace a noi cambio manuale a sei rapporti ovviamente un'auto veramente da sfruttare godere una macchina che consuma molto poco i chilometri come sempre tutte le nostre auto hanno certificazione di chilometri e di manutenzioni eseguite questa addirittura con iva esposta quindi per chi avesse necessità di fattura può benissimo detrarre l'iva eccola qui venitela a vedere a provare qui a sei marci vi ricordo che è possibile ovviamente un'estensione di garanzia dai 12 mesi ai 24 e anche pagare comodamente con rate piccolissime sfruttando la nostra finanziaria veniteci a trovare